Ploters Niki Facciamo una scherza, Niki! Maschera invisibile! Oh, Niki sta mangiando qualcosa! Oh, Niki! Dove la mia caramella! No! Niam, Niam! Niam, Niam! Niam, Niam! 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 Ci fai qui? È il mio cocktail! È il mio cocktail! Oh no! Smettila di copiarmi! Smettila di copiarmi! Dammi il tuo telefono! Dammi il tuo telefono! Beh! Beh! Finalmente! Me ne vado! È la mia macchina! È la mia macchina! Corri! Che giornata impegnativa! Che giornata impegnativa! Acciu! Cosa c'è? Ci stai copiando? Miau! 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 Tesoro! eningo! Miau! Miau! Sì, 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 questo! Ho fame! Troviamo del gelato! Sì! Oh, niente gelato È arrivata la mamma! Facciamo il gelato! Sì! Wow, guarda questo gelato! Oh, quanti! Che forza! Niki, andiamo! Ok! Wow! Dov'è il gelato? Qua! La mamma ha un bel lavoro! Lavoro! Cerchiamo altri gelati! Sì! Nicky, è un gelato! Sì! Vediamo cosa c'è in quello! Wow! Facciamo un frullato! Sì! Che cosa vuoi? Banane fragola! E' un bel lavoro! Sì! 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 oh ehi ragazzi ehi ragazzi ehi oh ma cosa ci fate qui? mamma volevamo imparare a fare il gelato? sì vi insegnerò a fare il gelato migliore venite ragazzi venite che tipo di gelato vuoi? voglio questo non c'è problema wow per te grazie mamma voglio una ciambella ottima scelta facciamo le ciambelle pronte ecco a te grazie mamma mamma queste ciambelle sono fantastiche vuoi del succo? sì sì ecco qui è buono? sì grazie mamma prego miei cari oh grazie ah mi piace ah sono in ritardo buona giornata mamma facciamo un gelato gelato ok blad è il mio gelato è mio ti do il gelato se mi aiuti sì facciamolo ben fatto uff ho finito ok che gusto di gelato vuoi? voglio il cioccolato ok è per te grazie mamma delizioso ehi blad dove hai preso il gelato? là è il mio gelato è mio è il mio gelato ehi io ti do il gelato ma tu devi aiutarmi ok Gattino, gattino, gattino Ok Fatto Dammi il gelato È per te Wow, grazie Forte Nuovo gelato Sì Ehi, è il mio gelato, Nicky Ehi, quello è il mio gelato Ti do un gelato se mi lavi la macchina Sì Andiamo, andiamo Siete pronti? Oh, sì Forza Mamma, mamma, abbiamo finito Ok Wow Per te E per te Grazie, mamma Uh Uh-huh Ah Cocomero Sì Sìììì! Forte! Ehi, è solo per me! Mamma! Scusa! Oh, no! Andiamo! Dove? Che è successo? Oh no! Mamma, ti fa male bere bevande gassate? Sono mie! A me va bene! Mamma, non è salutare! Scusa, ma mi piacciono! Vai a giocare, Niki! Dai! Ok! Inganniamo la mamma! Tu? Mamma, ammina! Aiutami! Scusa, ma mi piacciono! Ah, i miei ragazzi! La 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 la! Mamma! Oh! Cos'è successo, Vlad? Mamma! Ma che cos'è quello? Oh, i miei ragazzi! Mamma! Eh? Cos'è successo? Ok, ti aiuto io! Che cos'è? Dov'è la mia bibita? Oh, i miei ragazzi! Guardate! Mamma, mamma! Guarda cosa ho disegnato! Oh no! Cosa c'è? Che cos'è? Ma ancora? Cosa? Cosa? Ma che cos'è? Mamma, non è salutare bere bevande cassate! Ok! Ragazzi, non dimenticate di bere acqua sana! Vlad, è la mia nuova auto! C'è sempre qualcosa che non ti piace! Mamma, forte! Guarda qui! Wow! Wow, sono l'uomo ragno! Hai-ya! Yuh-hoo! Ok! Oh, sì! Ah, sono l'uomo! Hai-ya! Ah! 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 Sono Capitano America! Salve al mondo! Ah-ya! la missione è completa oh ciao supereroe guarda come ho migliorato la tua macchina oh cosa stai facendo con la mia macchina? parte vero? cos'è quello? cosa? sono un uomo ragno! cos'è quello? sembra che vada bene oh run no blood la 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 oh oh hai adesivi per ragazze? fammi controllare oh grazie blood oh sembra bello cosa c'è? ehi è la mia macchina! cosa stavano facendo con la mia macchina? wow sì wow sono batman vai sali no 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 andiamo ok sei pronto a divertirti un po'? oh sì ah ah so duh c'è